E stiamo avanti con l'edizione di quest'anno del Cantante Mascherato, dove il 22 è andata in onda la finale. Insomma, puntata finale, puntata di chiusura, e a tarda serata Millie Carlucci ha annunciato il vincitore di questa edizione. È stata, diciamo, una cavalcata ricca di colpi di scena, con un finale a dir poco agguerreto, che ha visto cadere la maschera una ad una per arrivare per forza al finale. E allora, chi si è nascosto dietro lo squalo? Perché questa maschera qui è stata veramente sorprendente. Allora, sotto c'era il comico Tullio Solenghi, vecchia conoscenza di Millie Carlucci, tra l'altro. Pensate che nel 2020 partecipò a Ballando con le stelle, che subito si è lasciato andare ad un commento, tanto per dire la sua. Il primo messaggio è per i miei nipoti. Avete visto che c'ero io? Ora andate a dormire. Sospettavano fossi io sotto lo squalo. Devo fare un plauso alla giuria. Finalmente una giuria serena, sorridente, io che vengo dalla giuria di Ballando che era una sorta di TSO, trovare una giuria normale per me è stato un grande vantaggio. Spesso sono stato confuso con Massimo Lopez. Essere confuso con Margherita Bui, Drusilla, è stato un avanzamento della carriera importante, ha concluso l'artista. Squalo è stato tra i più accreditati per la vittoria finale andata poi al Cavaliere Veneziano, che durante le esibizioni della serata, diversamente dalle puntate precedenti, ha dato prova di essere un formidabile ballerino. Proprio la sua innata capacità di ballo era un indizio per capire chi si nascondesse sotto la maschera. Il Cavaliere Veneziano altro non era che Samuel Peron. Tantissimi i commenti piovuti, bravo Samuel. Fino alla settimana scorsa non pensavo fossi tu, votavo la maschera perché mi piaceva. Sabato scorso ho cominciato a sospettare, poi stasera hai deciso di ballare sul serio e lì non ho più avuto dubbi. Scrive un utente sui social. E ancora, la lista è lunga, quindi il prossimo anno potremmo vederti anche a Sanremo. Beh complimenti per questa vittoria per me aspettata invece, visto che t'ho votato ma pensando ci fosse sotto un Alessandro Egger. Hai indossato la maschera più bella e sei stato comunque il migliore, bravo. Per il cantante mascherato non è stata una stagione facile. Millie Carlucci si è trovata spesso in difficoltà con dati Auditel sotto le attese. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.